Sono stati inaugurati i lavori per la nuova rotatoria e la risistemazione di via vasche nel comune di Voe Uganeo. Noi l'abbiamo sempre detto come amministrazione provinciale, crediamo nella messa in sicurezza, nell'aumento della sicurezza delle nostre strade e nel rendere più fluida la mobilità. Questo per due motivi, uno per aumentare l'incolumità di chi viaggia sulle nostre strade e due anche per diminuire l'impatto ambientale perché lo sappiamo benissimo un traffico rallentato produce molte polveri sottili. Le rotonde servono anche a questo, oltre in primis alla sicurezza. Per cui abbiamo preso come due piccioni una fava, c'è stata una grande collaborazione con il sindaco locale e qui oggi inauguriamo un'infrastruttura davvero importante per questo territorio. Un grosso contributo della provincia senza la quale quest'opera non sarebbe stata possibile e soprattutto in previsione della prossima partitura del casello autostradale qua ad Agugliaro abbiamo dovuto fare quest'opera. La provincia è stata molto sensibile su questo discorso e l'opera, come vediamo, è un'opera che merita veramente di essere riconosciuto. Le maestranze hanno lavorato molto bene e siamo soddisfatti di aver portato a termine quest'opera che serve soprattutto per la sicurezza dei cittadini. Grazie a tutti.